Ufficialmente dovevano contenere solo auto usate, pezzi di ricambio, scarpe ed indumenti ed invece, ben occultate, c'erano anche auto rubate, due Range Rover Evoque, tra le più gettonate ormai dai ladri di tutta Italia. A scoprirle, all'interno di un container in transito nel porto di Salerno, la squadra di polizia giudiziaria guidata dal commissario Roberto Pess della Polstrada di Napoli del compartimento Campania e Molise del generale Giuseppe Salomone, che è intervenuta insieme con gli uomini della Polizia Marittime di Frontiera dello Scalo Salernitano, guidato da Giuliana Postiglione con la polstrada locale della dottoressa Papa. Partiti da Genova sulla motonave Grimaldi Lines, Repubblica Argentina, i container, spediti da alcuni cittadini africani, erano diretti a Lagos. La scoperta è stata resa possibile grazie ad accurate indagini del compartimento Campania-Molise della Polizia Stradale, che ha trovato poi riscontri anche dai dati del sistema di tracciamento delle auto rubate e lo Jack, che si sta rivelando più efficiente di altri di tipo satellitare, avendo consentito di recuperare ben 1400 veicoli in un anno. Un sistema di controllo reso possibile da un accordo con il Ministero dell'Interno e sinora poco pubblicizzato proprio per evitare di svelare dettagli importanti ai trafficanti. Dai controlli scattati all'alba nel porto di Salerno è stato possibile accertare la contraffazione delle bolle di accompagnamento. All'interno dei due container, infatti, ci sarebbero dovuti essere, oltre a vecchie autovetture, Mercedes provenienti da mercati esteri, anche due furgoni Ducato. Ed invece, dietro tonnellate di TV Color, radio, indumenti ed anche bottiglie di spumante e bevande varie, la polizia ha ritrovato due autovetture di provenienza furtiva. Nella parte terminale dei container ha anche altri pezzi di ricambio per auto, TV Color a schermo piatto ed altri elettrodomestici.